Va bene, sentite, ecco il piano. Ci avvicineremo di soppiatto verso Stormbreaker. E faremo molta attenzione a non sbattere contro quei grossi mostri ombra. Sono dietro di me, vero? Qualcuno qui ha esperienza di battaglia? Beh, il momento migliore per imparare è ora. Noi non siamo forti come te, siamo bambini. Ehi, non dimenticate che siete bambini asgardiani. Io no, io sono un bambino licaniano. E io sono un mitassiano. Io sono farlicaniano. Ok, ok, ma oggi siete asgardiani. Adesso prendete le vostre armi. Raccoglite qualunque cosa riuscite a impugnare. Portatela qui. Presto, presto! Ok, bene, svelti! Si avvicinano, presto! Oggi è un giorno che passerà alla storia. Oggi è il giorno di cui parleranno le generazioni future. Oggi siamo i vichinghi dello spazio! Presentat... Arm! Chiunque brandisca queste armi e creda nel ritorno a casa, essendo puro di cuore e pertanto degno, si impossesserà... solo per un tempo limitato... del potere... SITOR! Generale Axol, conduci il tuo esercito a quell'ascia. Tireremo fuori il nostro peggio... per Asgard. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.